eccoci ragazzi oggi partenza da faedis che sarà un giro che ci porterà a marco dove dopo scendiamo giù attraverso il bosco arriveremo a port sus e poi giù a canal di grivo insomma poi club un giro abbastanza variegato con centironi alla nostra altezza speriamo bene dai ciao grazie a tutti eccoci ragazzi arrivati alle malghe di port sus che sono diventate drammaticamente famose per l'ecidio accaduto nel 45 dove un gruppo di partigiani della brigata osoppo si era praticamente rifugiata in queste malghe però poi sono arrivati gli antagonisti sempre partigiani però titini quindi che diciamo parteggiavano per tito al tempo con la sfusa così di trovare insomma un appoggio per una sistemazione per la notte hanno trucidato questi poveri disgraziati partigiani che tra le curiosità c'era anche il comandante francesco de gregori che era lo zio di francesco che si chiama come lui incredibile che è stato trucidato per primo e poi c'era anche guido pasolini che era il fratello minore di pierpaolo pasolini che infatti ha scritto diversi versi e poesie che parlano che menzionano di questa triste vicenda ecco ecco qui siamo all'interno di questa malga che probabilmente è stata la sede dove si sono riparati i partigiani della brigata osoppo e sembra che il pretesto dell'altra fazione del gap che ha brutalmente ucciso sia stato il fatto che questi partigiani osoppo hanno dato ospitalità a una giovane donna che si chiamava elda turchetti che pare fosse stata accusata da radio londra per collaborazionismo avere appoggiato poi i nazisti e quindi per questo motivo in realtà forse le cose non le sapete grazie a tutti Grazie a tutti. Oh, che bello. Eccoci ragazzi, arrivati su questa bellissima panoramica cima. Adesso ci approvvigioniamo un po' di banane e mele. E guardate che qua si vede anche la cima del Quarnan che abbiamo appena fatto. Il Quarnan! Guardate il video in sovraimpressione e il link della Cresta Est, la fammiserata Cresta Est. Terribili ricordi ragazzi. Tanta roba. Ciao! 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 Tappiana, è lui! Oh! And then it got me thinkin' The boozy got me sinkin' The smokey had me twisted Enough that I was listed As alien and gifted Evolution, I assisted Couldn't get enough, I became a fiend Now I'm off in a new galaxy And I got big plans and I got big dreams Get up in my spaceship and I'll shit you what I mean And I stop big scams and I still get creamed Miss Apocalypse, I got a female team And my girls are tough and they never meet Grazie a tutti 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 Grazie a tutti